Buonasera sono Dito Guarano, e mi presento con il mio corpo che cambia di pieno delle cose. Compa, raffa poggiare! Accogliamo con un grande apprauto di Dito Guarano! 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 un spazio a pieno per lui, il mio porco che cambia, dico 40 ehi, sto tanto ora sto a fare video, come guarda? come sono te, dai vedi? poi è un'altra antenna si accude, questa sensazione è come un ruolo che mi passa dentro senza sensazione dove tuve, come un sanzione sto viajando senza vite, non è nulla direzione che fra della linea vanno e che guardia questo lungo viaggio andiamo lontano ecco cos'è il mio suore non è facile guardare in faccia la trasformazione è il mio corpo che cambia nella forma e nel colore è la trasformazione è una strana sensazione di sbaglio di sudore è il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia e cambia e cambia lontano è il mio corpo che cambia e cambia e cambia c'è il mio corpo che cambia e cambia e cambia E' il mio corpo che cambia, è la forma in te, è la formazione. E' un po' che cambia, e cambia, e cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Volevo saltare tutta la piazza sul puteto, siete creati! Volevo saltare i miei amici di Firenze e tutti qua in prima fila, ciao ragazzi! Grazie a tutti! 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 Prima di andare via a scappare, volevo chiederti, visto che hai saltato un brano a differenza al periodo dell'istiva, secondo te perché Piero Pelù ha scelto di separarsi? Sarà forse una questione economica? Sicuramente! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!